Roberto Baggio E c'è la rete Un 1-2 veramente da KO La difesa era ben schierata Ma è riuscito comunque a trovare lo spazio E a insaccare Che voglia di segnare Non si è lasciato intimidire dalla pressione avversaria Ha trovato uno spazio insperato per calcare la rete E a la rete